Ben tornati raga, qua è Savix che vi parla e benvenuto perchè è nuovo nel canale Oggi vi porto il metodo per prendere ragazzi lo slam van dei lost Come ben sapete non si può comprare e non si può prendere da nessuna parte Ma facendo questa cosa riusciremo a recuperarlo Quindi dovremo avere praticamente il colpo del caio mezzo pronto Dovremo andare sulle missioni preliminari, andare su veicoli d'approccio, andare sul secondo dell'alcanost ragazzi Dopodiché sbloccare la prima parte e avviare la seconda parte Una volta avviata la seconda parte ci dovrà dare una determinata missione ragazzi Per esempio questa è Vinewood e non è quella giusta Quindi cosa facciamo raga? Ci mettiamo il rientro dentro il nostro cosatta Una volta messo il rientro ci salviamo uno stile Così va il salvataggio e poi andremo a cambiare la lobby Dopodiché dovremo riprovare e fare la stessa cosa Finché ragazzi non ci da questa missione Che si chiama Sankiaski Mountain Range ragazzi Quindi mi raccomando non vi scoraggiate Ce ne sono tre o quattro Voi fate il cambio lobby finché non vi compare Potrebbe capitare a volte che per un paio di volte rimane la stessa missione Ma vi assicuro che poi cambiano Quindi una volta avviata questa determinata missione Non ci resta altro che andare sul punto giallo dall'obiettivo A questo punto dovete ammazzare tutti i tipi dei lost Raga è facile Una cavolata sono pochi E una volta che li avete uccisi tutti quanti Dovete distruggere l'europlano Mi raccomando ragazzi Prima di distruggerlo Allontanatevi Allontanate i veicoli Perché altrimenti avete fatto tutto a babbo Oppure fate come ho fatto io Che sono salito sul veicolo E ci ho lanciato 25 bombe adesive Finché non esplodeva l'europlano Quindi a questo punto ragazzi Una volta distrutto E ci ha dato missione fallita Non ci resterà altro che andare a fare Il nostro gift card to friends attivo O con la base operativa O fate il con to come ragazzi Che vi lascio magari in descrizione Per chi non lo conosce Questo è il metodo per recuperare Lo slam van dei lost Raga Sono quasi certo Che non si possa portare Il furgoncino dei lost Fatemi sapere nei commenti Se ci volete provare E se riuscite a salvarlo Con il com to come O con il gift card to friends Io spero che questo video Vi sia stato d'aiuto ragazzi Lasciate un like se è stato così Attivate la campanellina Attivate le notifiche Mettete su tutte Così ogni volta che io pubblico un video A voi vi scasso la minchia Con una bella notifica Bella raga Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima